Mentre continua nella Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato la bella mostra dedicata ad Angelo D'Andrea, per l'estate in città 2014 ha preso il via il ciclo di incontri per adulti e bambini estate al parco. Il primo appuntamento intitolato Attenti al quadro è stato interamente dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni. Le luci nelle sale espositive della mostra sono state spente per accendere la curiosità dei più piccoli alla scoperta dell'artista originario di Rauscedo. Gli incontri, a cura della cooperativa Guarnerio e di studio Eupolis, sono circa una decina, con argomenti sempre diversi e si terranno durante i mesi di agosto e settembre con partecipazione libera. Sono dei percorsi sia per bambini che per adulti. Questo primo di oggi inizia alle 17 ed è un incontro speciale perché la galleria spegne le sue luci e i bambini quindi andranno alla caccia e alla scoperta di Angelo D'Andrea in un modo un po' particolare. Le sale saranno al buio, avremo l'ausilio solamente delle torce elettriche e quindi scopriremo i dettagli particolari che caratterizzano la pittura e il disegno di D'Andrea. Martedì 5 agosto alle 18 l'attività sarà rivolta agli adulti per conoscere la figura dell'artista Angelo D'Andrea attraverso la testimonianza dei critici d'arte che l'hanno conosciuto. Sarà un confronto tra le opere e i critici che appunto hanno scritto su D'Andrea quindi con una lettura anche degli articoli scritti appunto sulle opere di D'Andrea.